... Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B valenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo... ...come lacrime nella pioggia. ...è tempo di morire. ... ... ... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. a 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 tutti.